Dopo le feste di Natale e Capodanno, si sa che il corpo ha la necessità di rimettersi a posto, di rimettersi in normalità in risposta agli eccessi delle festività. Ne parliamo con la dietista piacentina Monica Mai. Buon pomeriggio, benvenuta. Buon pomeriggio a voi, ciao Massimo, buon anno, si può ancora dire, quindi davvero vi auguro un anno di serenità. Tanti auguri che ricambiamo, Monica, è sempre un piacere ritrovarla qui su Radio Sound Piacenza 24. 24 abbiamo bisogno di resettare, come dicevo prima, perché dopo queste così tra virgolette abbuffate, non per tutti, chi più chi meno, comunque abbiamo mangiato un po' di più, ci sono delle conseguenze. Beh, allora, tu tieni presente che però noi abbiamo un corpo che è perfetto, nel senso che mette in auto dei meccanismi che lo tengono in equilibrio. Questo equilibrio si chiama omenostasi e il nostro metabolismo cosa fa? Si abbassa o si alza a seconda delle riserve energetiche che abbiamo. Quindi se ne ho molte si alza, se ne ho poche si abbassa. Quindi per difendersi anche da queste abbuffate, lui cosa fa? Dice, vabbè, hai mangiato tanto, allora ti faccio diminuire la fame. In realtà però, da questo periodo, noi che cosa portiamo? Portiamo una voglia comunque di eccedere anche nei giorni successivi, cioè quando le feste sono finite. E allora qui dobbiamo cercare di capire, che è una cosa più da psicologo che da dietista, però capire se la nostra è una fame di testa o di pancia. Quindi se ho una fame reale, il mio stomaco richiede, o se in realtà mi porto un errore nel meccanismo di equilibrio che ti ho detto prima. Quindi magari, insomma, ho ecceduto, anche da un punto di vista psicologico mi sono sentito più libero e quindi la prima cosa da capire è questa. Poi è ovvio che ci sono dei consigli pratici che noi possiamo attuare. È molto più facile forse attuare un consiglio pratico che entrare nella nostra mente e cercare di capire cosa sta succedendo. Anche perché, Monica, in questo momento, ad esempio nelle prime ore del 2024, oggi siamo nel secondo giorno, una delle parole più cliccate sul web è sicuramente dieta. È una delle cose che ti appare di più, andando anche sui social, quando arrivano 3000 pubblicità, arrivano pubblicità, insomma, di diete anche un po' estreme, un po' particolari. Meglio fare con calma, no? Guarda, io non ho cliccato, devo dirti la verità, però sicuramente una cosa che va molto di moda in questo periodo è il digiuno e anche lì occorre veramente fare attenzione. Non è che se io ho mangiato tanto, allora dopo devo saltare il pasto il giorno successivo o nei giorni successivi. Per digiunare e per seguire un'alimentazione di questo tipo occorre sempre avere accanto un medico che ci dica se stiamo facendo più o meno bene. Quindi no ai digiuri, ma meglio cercare di equilibrare i piatti magari riducendo le porzioni. Quindi meno carne e più pesce, porzioni più piccole, molta verdura, i legumi magari al posto del secondo piatto e bere, bere tanto, insomma. Perché è anche una stagione che non ci consente, non ci fa venire voglia di bere secondo il nostro fabbisogno. Non dimentichiamo l'attività fisica che non vuol dire assolutamente fare la maratona di New York, bensì delle passeggiate all'aria aperta perché abbiamo bisogno anche della vitamina D e di stare all'aria aperta. Quindi camminare, ecco, attività fisica intesa anche così. L'ultima domanda al volo arriva da una nostra ascoltatrice che ci ha scritto di aver ceduto un po' nel caffè, soprattutto durante le fesse. Ci chiede ma quanti caffè al giorno si possono bere normalmente? Allora stiamo parlando di una condizione di normalità, quindi non siamo in gravidanza, non abbiamo patologie particolari. Si può arrivare a 3-4 caffè al giorno. Ricordiamo sempre che quelli fatti in casa, fatti con la moca, quelli non al bar, hanno comunque una presenza di sostanze differenti. Perché la temperatura che viene raggiunta dalle macchine del caffè al bar ti danno anche una sensazione. sembra più buono ma perché in realtà riesce a togliere dal chicco del caffè, quindi dalla miscela del caffè, degli acidi essenziali che aromatizzano meglio il nostro profumo, però anche più caffeina rispetto alla moca che facciamo in casa. Monica Mai, detista piacentina. È un piacere ritrovarla anche in questo inizio 2024. Ancora tanti auguroni. Anche a voi, grazie. Anche a voi.